www.mariziopoli.it Come investono gli italiani? Il report della Consob pubblicato poi sul sito della Banca d'Italia che vi allegro il link per un maggiore approfondimento. Stante che per gli italiani l'investimento immobiliare e il risparmio nell'immobiliare è al primo posto, subito dopo ci sono i buoni fruttifoli postali per il 50% degli investitori, fondi comuni di investimento per il 29%, titoli di Stato per il 18%, gestioni patrimoniali per il 16%, prodotti assicurativi e contenuto finanziario per il 15%, azioni quotate al 13%, obbligazioni bancarie l'11% e titoli esteri l'8%. C'è un risveglio dovuto senza una conoscenza approfondita per quanto riguarda il modulo dell'accredito da valuta che sta aumentando per il cosiddetto facile guadagno. Ecco questo è il report che vi allegro e la domanda è e tu come investi i tuoi risparmi?